Atterraggio di emergenza di un ultraleggero davanti a un supermercato di Bolzano Sud. Poteva essere una tragedia, l'abilità del giovane pilota al totesino e un po' di fortuna hanno evitato il peggio. Parabrezza delle auto ammaccati e targhe di velte, tanta paura, ma l'atterraggio di fortuna di un ultraleggero nella zona produttiva di Bolzano Sud non ha avuto conseguenze pesanti, spiega Roland Meraner, direttore di intervento dei vigili del fuoco di Bolzano. Davanti all'InterSpar via Einstein è caduto, o meglio c'era un atterraggio di emergenza di un ultraleggero. In questa manovra ha toccato tre macchine, cinque feriti, di cui due dell'ultraleggero, tutti feriti leggermente per fortuna. L'aerodaturismo era decolato pochi secondi prima, intorno alle 14.30 dal vicinissimo aeroporto di Bolzano, quando una probabile avaria ha costretto il pilota al difficile atterraggio lungo la stradina utilizzata per accedere al supermercato. Tante le persone presenti in quel momento nell'adiacente parcheggio e nel vicino Luna Park. Sulla dinamica dei fatti indagano Forze dell'Ordine e Denac.